Nella vicina, selvaggia e remota Valpellin si trova un magnifico 4.000. La Danderen, secondo me, è il più selvaggio dei 4.000 valdostani. La Danderen è una montagna per sperimentati alpinisti. Se non fosse lì a due passi all'ombra del Cervino, godrebbe sicuramente di altra fama. Sempre in Valpellin, o Cumba Freida come diciamo in Patois, si trova quello che risulta essere uno dei più ambiti e temuto 4.000 delle Alpi. Il Gran Convent, con la sua imponenza, domina la valle del Gran San Bernardo e la città di Aosta. Il Gran Convent, con la sua imponenza, domina la valle del Gran Convent.